Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, come avrete letto dal titolo, video call Tiger, yuhuu, sono riuscita a passare anch'io finalmente, questa è la collezione di gennaio a me piace tantissimo, soprattutto questi colori che hanno utilizzato poi ho anche due o tre cosine che ho preso da legami quindi vi faccio vedere anche quelle comunque spostiamoci subito sulla scrivania così vi faccio vedere in dettaglio tutto quello che c'è in questo sacchettone delle meraviglie ho preso a 2 euro ciascuna queste tazze con manico e ho preso questa sui toni del verde questa sui toni del salmone arancione questa sui toni del grigio nero sono molto carine, mi piacevano e ho deciso di comprarle perché voglio decorarle con delle scritte in vinile oro o bianco o nero, adesso vedo e fare delle planner, delle tazze per planner girl quindi queste dicevo pagate 2 euro ciascuna poi a 50 centesimi l'uno, quindi erano 2 a 1 euro ho preso questi biglietti sono i soliti bigliettini con la busta non li userò anche questi come bigliettini ma ho in mente dei progettini comunque vi svelerò più avanti che cosa ne voglio fare poi ad 1 euro ciascuno ho preso queste che sono delle cartellette portadocumenti allora a parte che comunque hanno il formato A5 e quindi pensavo che potrebbero entrare in agenda volevo capire un attimino com'era ah perfetto praticamente sono incollate qua e qua quindi quei due lati sono incollati quindi si apre in questo modo e si possono inserire diversi documenti sono praticamente 4 tasche carine da mettere in agenda si possono benissimo fare i buchi per appunto inserirla nel planner nel planner e appunto poi si possono andare ad inserire gli stickers dei bigliettini delle card qualsiasi cosa vogliamo l'ho presa in questa fantasia che è sulle tonalità del viola e poi l'ho presa anche in questa fantasia sempre la stessa sulle tonalità dei verdi un euro ciascuna queste poi a 3 euro ho preso questo quadernone quelli con la copertina rigida formato A4 allora all'interno le prime pagine sono rosa ma poi ha le pagine a righe tutto pagine a righe in fondo ancora rosa mi piaceva la fantasia questa volta la fantasia di Tiger che hanno scelto mi piace davvero tanto è bellissima e questo l'ho pagato 3 euro poi a 50 centesimi l'una e quindi 1 euro tutte e due ho preso queste matite ho preso la matita con la mucchina e la matita con il coniglietto sulla matita con il coniglietto ci sono disegnate le carotine e sulla matita con la mucca ci sono le macchie maculate 1 euro tutte e due poi a 3 euro ho preso anch'io il blocco con le paillettes che cambiano colore questo è blu e diventa argento molto divertente e all'interno è a righe è tutto a righe adesso lo togliamo addirittura divertentissimo avevo visto anche la versione viola che le paillettes sotto erano oro ma dal Tiger dove sono andata io non c'erano più per cui ho preso questo qua e tra l'altro erano rimasti solo questi qua piccolini quelli formato a 5 non li ho visti questo dovrebbe essere un formato a 6 penso che piccolino poi alla cassa ho trovato questa penna proprio fatta a forma di penna è una penna gel penna gel penna gel che scrive vediamo un po' scrive di nero ed è proprio una penna gel mi piaceva perché vabbè a parte che è rosa poi vabbè comunque la forma della penna un po' stile vintage e poi al tappo oro quindi mi piaceva e l'ho presa poi ho preso il set di matite quindi ci sono dentro 8 matite con appunto la grafica della nuova collezione ce ne sono 4 in un modo e 4 in un altro sono matite HB quindi quelle normali e queste le ho pagate pagate 2 euro poi a 2 euro sempre ho preso le clip allora ho preso queste clip che sono quelle che si aprono in questo modo quindi così quindi si possono mettere dentro dei fogli sono carine perché hanno questa parte dorata e poi il bello è che hanno le scritte quindi sia davanti che dietro c'è scritto remember read again to do he homework and hasap hasap dovrebbe essere as soon as possible molto carine anche queste mi piacevano appunto perché hanno le scritte poi questo è un acquisto per la mia mamma ed è un notebook con la calcolatrice praticamente c'è la calcolatrice che va a luce solare esatto 1 più 1 no 1 più 11 12 va con la luce infatti se copro si spegne c'è dentro un block notice e una penna non sto qui ad aprirlo perché è per mia mamma comunque qua vedo che sotto la calcolatrice qui ha una tasca quindi probabilmente si possono inserire anche dei fogli molto carino pagato 3 euro poi ho preso anch'io queste penne con il pom pom troppo carine hanno il pom pom morbidissimo e l'ho trovata azzurra quindi l'ho presa azzurra e tutto il manico è coperto con questo nastrino di raso a poire e la penna scrive ovviamente di nero però questa è una penna normale non è a gel però è molto carina mi piaceva perfetto sono riuscita a staccarlo bellissima ad un euro ho trovato queste due mega clip giganti allora le ho prese perché sono davvero carine e poi sono in metallo per cui sono abbastanza resistenti quindi c'è questa qua rosa e questa azzurra pagate un euro poi ho comprato questi tag fatti con la carta craft i tag li ho pagati vediamo se li trovo i tag pagati un euro e sono 15 pezzi lo so posso farli anche a mano non è però vabbè questa volta gli ho detto per un euro li prendo mi rimangono già fatti così se ho dei biglietti volanti veloci da fare ce li ho già pronti al prezzo di 3 euro al prezzo di 3 euro ho preso questo weekly planner con pad and sticky memos allora si apre allora ha la chiusura calamita c'è ecco un altro tema di questo mese appunto sono i fumetti vedete bang all'interno questo era molto carino abbiamo allora qui la busta quella classica che fa tiger dove si srotola lo spago e si apre qui abbiamo dei post it remember tutù e asap quindi sempre as soon as possible anche qui quindi la busta è bella capiente si alza non so se vedete è fatto in questo modo poi questi sono si sono post it quindi appiccicano questo qui invece è un blocchettino quindi non appiccicano i fogli poi abbiamo il calendario settimanale dal lunedì alla domenica con le note e anche questo sono blocchi praticamente non è post it poi al prezzo di 3 euro ho preso questi nastri bianco grigio e nero allora sono allora qui c'è scritto nastri per regalo sono in poliestere quindi in tessuto io non li ho presi per fare i regali ovviamente anche perché di solito per chiudere i regali si usano quelli quelli di plastica diciamo che poi con la forbice si fanno i ricciolini io ho preso questi perché mi servono quando faccio le agende quando creo le agende appunto adesso ho visto che faccio la parte di inserto inserto in feltro la parte che si congiunge tra il feltro e il cartoncino della copertina lo vado sempre a coprire con un nastro e bianco grigio e nero non li avevo possono venire utili anche perché ho intenzione di fare delle agende anche con colori classici magari un'agenda nera con dei particolari in oro insomma ho delle idee in testa che appena riesco voglio mettere in pratica e questo vi dicevo ho pagato 3 euro poi non ho resistito a 3 euro ho preso questo portachiavi penso che questo portachiavi ci sia già da qualche collezione non ricordo però io l'ho visto e mi è piaciuto un sacco bello morbidoso rosa ovviamente con il moschettone e la catenella oro ecco sicuramente non verrà utilizzato come portachiavi ma sarà un charm o di un midori o di un agenda devo ancora decidere dove attaccarlo guardate come sono pucciosi e infine l'ultima cosa da tiger ho preso a 50 centesimi l'uno questi deco tape allora questa è la fantasia anzi andiamo a togliere la carta così riesco a farvelo vedere meglio allora questa è la fantasia con scritto bam blam kaboom insomma sono un po' i suoni onomatopeici dei fumetti spero di ne aver detto una una stupidata però suoni onomatopeici vabbè comunque magari ho detto una grande cavolate può essere ed è così blam kaboom blam kaboom chissà magari una decorazione a tema fumetto ci può stare quindi 50 centesimi l'uno quindi andavano presi in coppia quindi questo qui e questo con su questi animaletti con le mascherine c'è tipo il gatto poi penso la volpe il tasso insomma diversi animaletti con queste mascherine ecco tutti e due a un euro e ovviamente ho preso anche l'altra versione azzurra quindi è uguale a quello rosso ma con lo sfondo azzurro è identico forse forse sono messi in modo diverso gli animaletti però ecco sono praticamente uguali e ovviamente il quarto siccome questi della nuova collezione erano tre il quarto ho trovato questo coi cuori è uguale già a uno che aveva fatto uscire tiger solo che questo qui quello che era già uscito ha i cuori sempre rossi ma lo sfondo rosa invece questo qua è sui toni del viola lilla adesso vi faccio vedere con l'altro così vedete la differenza ecco spero che si noti magari allontano un po' quindi questo è quello nuovo anzi forse anche qua i cuori sono leggermente più piccoli questo qua è quello rosa delle vecchie collezioni mi piaceva perché ovviamente lo sfondo viola è uno dei miei colori preferiti il rosa il viola e questo era tutto quello che ho preso da tiger esatto il sacchettone è vuoto vi faccio vedere anche gli acquisti fatti da legami perché comunque sono sempre cose cartopazze allora vediamo se trovo lo scontrino così vi dico il prezzo anche di questi allora ho comprato questi questi washi tape allora sono un po' cari perché li ho pagati 4 euro e 95 però 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 sono una meraviglia vediamo se riesco ad aprirli spavento ho visto questo di carta invece no è è una protezione oh mamma mia che belli ho fatto bene a prenderli ho fatto bene a prenderli stupendi allora forse se li vedete così non rendono molto però io non sto qui a srotolarli ma vi faccio vedere la carta che li proteggeva allora questo viola dell'unicorno con scritto believe in magic c'è l'unicorno poi c'è l'arcobaleno l'unicorno believe in magic poi c'è quello sui toni del rosa che ha tutti questi zuccherini e questo sul tono del verde con su le nuvolette con scritto dreams la pioggia i cuoricini no vabbè 4 euro e 95 però ragazze secondo me ne vale la pena perché sono veramente fatti bene sempre unicornoso ho preso questa gomma allora non rovinare la confezione cavolo mettete su un'etichetta magari un po' più piccola e meno piccicosa vabbè comunque la gomma è questa viene proprio su come un rossetto e qua gli arcobaleni ovviamente questa non la utilizzerò mai e poi su qua c'è disegnato l'unicorno con l'arcobaleno con l'arcobaleno legami we are dreamers siamo sognatori bellina questa gomma e la gomma l'ho pagata 1 euro e 95 a 3 euro e 50 ho preso un'altra delle penne ormai sto iniziando una collezione perché avevo preso questa con l'unicorno avevo preso questa col finicottero e questa volta invece ho preso questa con il koala questa scrive blu e verde quindi un'orecchietta scrive blu e dovrebbe essere questa esatto e l'altra orecchietta scrive verde esatto un verde normalissimo niente di che e la vado ad aggiungere appunto alla mia collezione delle penne legami oh che carine lo so costa un pochino perché è 3 euro e 50 però vabbè è bella poi ho preso cioè non potevo lasciarla lì visto che da Tiger non ero mai riuscita a trovarla la matita unicorno allora questa è una matitina che ho pagato 2 euro e 95 lo so da legami sono un po' costose le cose però era troppo pucciosa guardate con la coda così più motta con su questa gommina a forma di unicorno vabbè dietro è bianca infine in promozione a 50 centesimi ho comprato questi mini calendari del 2018 allora uno allora sono calendari a tiratavolo quindi si aprono e si mettono sul tavolo uno è questo con i gatti carino erano in promozione a 50 centesimi e siccome erano proprio belle le fantasie ho preso un altro uno lo terrò sulle mie scrivenie e l'altro vediamo un'idea di come utilizzarlo anche qua vediamo come ed è questo qui con lo sfondo con le cartine quindi con le mappe e niente questi sono tutti i miei acquisti cartopazzosi spero tanto che vi siano piaciuti fate mettete un bel pollice in su mi raccomando e lasciatemi un commento ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video e andate a sfogliare appunto nei video del mio canale perché c'è in corso un giveaway cartopazzoso con delle creazioni fatte da me quindi se non avete ancora partecipato andate a vedere il video e partecipate mi raccomando e niente vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao